Qual è il gioco migliore di sempre secondo te, cioè il tuo gioco preferito? Stavolta lo specifichiamo. Metal Gear Solid 3 senza la minima ombra di dubbio. Il Professor Layton 3. Minecraft. Decisamente The Legend of Zelda Ocarina of Time. Il gioco che ho condiviso con più persone in assoluto. Rayman 3 per PS2. Fortnite. GTA San Andreas, baby. Yoshi's Island. 2D ispiratissimo. Shadow of the Colossus. Monkey Island 2 proprio. Il sequel è il più bello del primo. Death Stranding di Teo Kojima dove cinema e videogiochi funzionano in una combo straordinaria. Destiny 1 ci ha giocato migliaia di ore. The Legend of Zelda Phantom Hourglass che già da piccolo mi consentiva di giocare sul water. Potrei dire diverse cose. Confermare l'affezionato Final Fantasy, però voglio usare questo palcoscenico per far arrivare un videogioco a quante più persone possibile. Outer Wilds. Doom 2. È così rigiocabile ancora adesso con le mod che Doom lo gioco sempre. In ogni pausa è lì. Però ho trattato tutta la spiegazione. Non dovevo. Doveva dire solo Doom 2. È Doom 2.